Allora, buongiorno a tutti, eccomi qua, il dottor Max in piena forma, che come al solito vi parla della Tanzania. Adesso qui siamo in inverno, in teoria dovremo essere in inverno, però le stagioni qui non sono come da noi, non c'è un vero e proprio ciclo delle stagioni, quindi adesso il tempo è piuttosto bello, siamo in ferie, tecnicamente l'Europa e tutto il mondo in agosto è in ferie, un po' meno, e quindi ci sono molti turisti, alcuni di voi sono già venuti qua a trovarmi, come Patrick, e quindi diciamo che le spiagge sia qui che soprattutto a Zanziva sono piene di turisti, poi Zanziva in particolare sta avendo un boom, credo che sia incrementato il 26% il turismo rispetto allo scorso anno, quindi è grossomodo sui livelli prima del pre-Covid. Allora, oggi è sabato, però dobbiamo parlare di oro e non di piano B. Dunque, allora, nel fuori onda, Patrick mi ha fatto una domanda e vuole delle precisazioni riguardo alla razio, io vi ho anche postato dei grafici, insomma dei dati, così parliamo anche di quelli, per capire un pochino meglio tutto come funziona il sistema, e anche di quello che si potrebbe chiamare lo spread, cioè quel tanto che le aziende che operano nel loro, Isabella, buongiorno, benvenuta, per poi fare business, diciamo così. Allora, io per eliminare tutte queste cose, tutte queste situazioni poco chiare, eccetera, vi ho preparato dei piccoli documenti che sono a disposizione di tutti, che precisano, cercano, ecco, di dare delle risposte chiare a tutte queste domande, va bene? I documenti piano piano aumentano, 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 ho qui davanti a me i due documenti dei contratti, per esempio in questo caso parliamo di Auvesta, però sapete che l'Auvesta è ovviamente l'azienda con la quale ho iniziato a lavorare prima e faccio il grosso del lavoro, diciamo così, come consulente, però adesso ho un rapporto di collaborazione anche con la Helior, soprattutto per i piani di accumulo, e per coloro che vogliono comprare piccole quantità di ore e tenerla in casa, con la Z Metalli di Valenza Po. Poi c'è un'altra, diciamo così, nicchia di persone, che è quasi più un segmento che nicchia, di persone che hanno già acquistato l'oro e siccome ci sono tutte le problematiche dello stoccaggio in Italia, io collaboro anche con un'azienda svizzera che si chiama Swiss Gold Safe, che è localizzata nella Svizzera tedesca, Zurigo. Zurigo è diventata poi il centro di, uno dei centri finanziari e anche di stoccaggio d'oro più importanti in Europa sicuramente, perché la Svizzera è comunque il focal point di tutto lo stoccaggio dell'oro del mondo, anche perché poi ci sono i Brinks, ci sono i Brinks e tutto quello che comportano, e quindi adesso io fornisco anche la consulenza a tutti coloro che vogliono spostare l'oro in Svizzera. Non è così facile, ci sono diverse possibilità, però diciamo che collabora adesso con queste quattro aziende a profitto. approfitto per ricordare che queste molto probabilmente saranno anche le aziende che saranno presenti a questo incontro sul quale sto lavorando il 19 di ottobre a Lucca, e ognuna interverrà presentando l'azienda e avrà il proprio spazio eccetera eccetera. Io questo dovrebbe avvenire il sabato mattino, ci sto ancora lavorando. Il sabato pomeriggio sarà destinato principalmente al mio intervento dove presenterò i primi risultati del Switch Pilot, nel quale appunto chi viene, chi interviene, l'incontro è aperto a tutti. È gratuito, però tutti si dovranno registrare, coloro che vogliono intervenire potranno fare tutte le domande. Io faccio la presentazione e poi si fa domande e risposte come al solito. Bene, ecco, ritorniamo al discorso documenti. Io ho preparato, quindi sono i due documenti che vi dicevo del contratto di Auvest. Dunque, le novità sono le seguenti. Sto facendo, diciamo, opera di convincimento per migliorare tutto il materiale di marketing italiano, soprattutto, ma non solo, con Auvest. Per esempio, il documento, il primo documento, quello del servizio cosiddetto di e-service, o e-service, è ben fatto, si legge bene, non ci sono particolari correzioni da fare. Però l'altro documento, che poi sono le condizioni generali, invece, è un po' un pastrocchio, è detto chiaro, è scritto piccolissimo, non si legge niente, quindi devo, anche la grammatica italiana, hanno tradotto dal tedesco all'italiano senza una supervisione, diciamo, di un aspetto, e allora probabilmente io, almeno io, nelle mie poi presentazioni, utilizzerò un documento che sarà da me rivisto col mio legale, accettato ovviamente da Auvest, che sarà tutto più chiaro. Sono piccole cose, però se si cerca di lavorare a livello professionale, bisogna fare quello che bisogna fare. Ecco, benissimo. Poi, ecco, arriviamo a quello che si diceva. A me c'è il documento che si chiama listino prezzi, tariffe e taglie, nel quale io presento il listino prezzi, per esempio, io l'ho fatto al 23,7, e quindi anche abbastanza recette, che purtroppo, come sapete, il prezzo dell'oro cambia a tutti i momenti, quindi andare a beccare proprio il prezzo preciso è praticamente impossibile, dipende da quando uno poi acquista o vende. Però in questo documento che io presento, c'è una breve presentazione diciamo, dei prezzi, no? Delle offerte di Auvesta con le varie taglie ed è un documento tutto sommato abbastanza semplice. Poi c'è il documento numero uno, nel quale io presento le condizioni di acquisto d'oro con Auvesta. Ecco, questo era un documento che non esisteva, l'ho preparato io, e in linea di massimo, mi sembra, va corretto, eh? Se uno vuole, le lo mando, è abbastanza chiaro. Ecco, in questo documento, questo documento è importante perché si specifica esattamente lo spread. Cioè, io ho fatto diverse prove ed effettivamente, per esempio, uno che ha una L12, e alcuni di voi hanno un L12, quando compra con Auvesta, ha il 14,5, un po' più, un po' meno, di spread sull'acquisto d'oro. Mentre coloro che hanno una XL hanno addirittura un pochino meno dell'11%. Quindi sono circa 5-6 punti rispetto alla S, la S è praticamente il piano di accumulo, no? Perché sapete, Auvesta ha creato con l'introduzione del switch pilot. Poi ci arriviamo, eh? ha creato queste quattro taglie, S, M, L, XL, e a seconda del quantitativo del contratto che uno fa, acquista, ovviamente, a migliori condizioni. Uno più acquista e più il prezzo è buono. Tenete presente che meno dell'11% è un ottimo prezzo. Perché io conosco grosso modo tutti i prezzi delle aziende italiane, scordatevi, bisogna andare in Svizzera, in Austria e nella stessa Germania per trovare un prezzo equivalente e poi queste aziende sono i tipici banchi metalli dove uno va, compra l'oro e poi lo stocca lì o lo porta in un'altra parte. Quindi non fanno effettivamente il servizio di Auvesta, no? Che poi, quando hai comprato l'oro, poi ti funziona come una banca. che è la grande utilità ed è la ragione per la quale io l'ho selezionata. Ci sono altre buone aziende, però non fanno questo servizio, che è quello che poi interessava a me e per i miei clienti. Va bene? Ecco, quindi, grosso modo, ci è spiegato tutto per venire. Poi c'è un altro documento, numero due, che si spiega esattamente come funziona il switch pilot, che io ho chiamato presente un valorizzatore metallo, Un software di valorizzatore metallo. Perché non è che sia proprio un switch pilot che si attacca o si stacca. Ora poi ne parliamo. Poi c'è un altro documento che spiega, invece, come si fa l'attivazione del switch pilot nel momento in cui uno lo vuole fare per conto proprio. Non c'è nessun problema, è spiegato tutto in maniera abbastanza chiara. Però io suggerisco di farlo, di leggere bene tutti questi documenti. e poi di farlo insieme. Ecco, così almeno non si fanno pasticci. Poi c'è anche un ultimo documento che ho messo insieme perché una cliente me l'ha chiesto e ho fatto una comparazione tra, diciamo, la taglia XL e l'offerta dell'Elior. Questa è una cosa legittima, è tutto nero su bianco, uno può scegliere un'azienda o un'altra, perché io non è che vi raccomando una. Io ve le presento, vi presento le due o tre aziende e quelle che mi chiedete e poi scegliete se le volete comprare voi. A me mi interessa il giusto. La cosa importante che non voglio dimenticare, ho appena mandato un messaggio a Marco il mio avvocato di Lucca. Adesso guardate, ve lo leggo se almeno ci sono discorsi. Io ho scritto a Marco. Marco Giannini gli ho scritto sto anche lavorando su un doppio disclaimer presentato in un documento unico. Nella prima parte si dichiara che quanto detto e scritto sui canali e social media nel materiale di presentazione delle aziende che rappresento è veritiero e che la trattativa da entrambe le parti dovrà essere condotta in maniera etica senza trucchi e o inganni da entrambe le parti. Nella sezione successiva ci sarà il disclaimer vero e proprio nel quale si dichiara che quanto detto e scritto sui social media e nel materiale di marketing di presentazione non rappresenta alcun consiglio finanziario eccetera 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 perché voglio fare questo documento voglio fare questo documento perché io sono il primo che ama la chiarezza e io battaglio tutti i giorni anche con la scorsa settimana abbiamo avuto una situazione mi sono dovuto mettere perché il bombarder ha un carattere diverso dal mio io mi chiamo guerrieri vengo da New York e sono un guerriero lui tante volte ha un atteggiamento molto più soft e magari ecco in alcune situazioni bisogna bisogna far valere i diritti nei limiti del possibile del cliente senza fare nomi abbiamo una cliente importante che ha fatto un investimento importante ormai due o tre anni fa che era che era molto preoccupata dal discorso dei settaggi no per l'ultimo l'ultima attivazione che ha fatto sul TG pilot io avevo dato avevo raccomandato certi settaggi in prospettiva in un trend diciamo così oro i settaggi poi non erano stati fatti esattamente come avevo detto io e lei si è un po' diciamo preoccupata di questa cosa e comunque l'abbiamo aggiustata ecco ci ho dovuto battelleare un pochettino però siamo riusciti eccezionalmente ad aggiustarla questa cosa qui perché ricordo che una volta che i settaggi sono fatti Patrick sono fatti non è che il sistema è stato studiato per mettersi lì ritoccarli uno dice cambia idea no assolutamente no ecco perché è importante digerire bene come funziona il software ora la maggior parte del lavoro aspetta a me aspetta a voi però è molto importante che d'ora in poi appunto sia io e basta e non per far fuori va a altre vanno da un pensione se fatto fuori da solo non certo se sarà a disposizione per le emergenze ma come si dice tutto il male non viene per nuocere quindi attraverso la lettura attenta di questi documenti che sono a disposizione non soltanto vostra dei clienti diciamo così amici vi considero sapete più amici che clienti perché il nostro contratto è un contratto in onore eh come si dice quindi non ci devono essere trucchi non ci devono essere cose che non sono chiare e bisogna portare avanti il rapporto basato sulla chiarezza estrema di tutto ecco io sto cercando di lavorare in questa direzione per me non è una scelta così temporanea per me è una scelta di vita perché quando uno ha un master come ho io sul marketing strategico nella comunicazione nei servizi non può secondo me giocare troppo sulle cose ogni tanto nella vita bisogna essere furbi furbi nella maniera giusta ma non furbini ecco il panorama purtroppo delle aziende dell'oro sempre bisogna usare sempre il condizionale soprattutto italiano pullula di aziende furbine che non hanno dei contratti chiari che ti dicono delle cose e poi ne fanno altre vi faccio un esempio sapete che io non è che giro intorno alle cose se c'è un'azienda non faccio il nome per correttezza eventualmente lo farò quando ho tutto il materiale a disposizione che dice che ha concessioni un'azienda che vende oro che ha una concessione in Tanzania ora questi sono pure citrulli perché io sono qui faccio il lavoro sono praticamente rappresento un'azienda in competizione vivo qua da tre anni prima di fare una dichiarazione del genere dovrebbero essere un po' più attenti e un po' più un po' più cauti che cosa vuol dire avere una concessione che qualcuno che concessione mineraria c'è qualcuno di voi che può fare un commento può dirmi che cos'è una concessione se un'azienda voi siete qui interessati all'oro comprare dell'oro avete già comprato eccetera o comunque lo avete comprato un'azienda vi presenta che si presenta e dice io ho una concessione in Tanzania voi che cosa capite cos'è una concessione dimmi è una licenza per occupare in Tanzania per acquistare una dimmi sì sì dimmi dimmi una una licenza un permesso un contratto per operare in Tanzania cioè comprare e vendere oro in Tanzania non lo so sì ci sei molto vicino in effetti può essere sia una licenza che ti permette di aprire una miniera no? cioè di comprare un terreno sotto licenza governativa e di gestire una miniera concessione si intenderebbe questo qua oppure una licenza per cui chiede una licenza normale come possono chiedere tutti anch'io anche un privato può farlo per comprare oro perché l'oro in Tanzania è un prezzo un mercato regolato super regolato dal governo che decide anche il prezzo di acquisto di acquisto non di vendita cioè di vendita scusa non di di acquisto oro è quando te devi comprare oro il prezzo è governato in questi mercatini che hanno sia qua a Samora Avenue sia per esempio a Gaeta dove c'è solo le miniere più numerose più importanti che è vicino al lago Vittoria molto lontano quindi io ci andrò sicuramente ci voglio andare devo organizzare ora ci andrò forse la terza settimana di agosto ci voglio stare due o tre giorni perché anche dal puntista professionale mi interessano capire queste cose però il prezzo è regolato è quello lì dal governo e quindi sono due licenze diverse perché sono due licenze diverse perché nel momento in cui un'azienda dice io ho una concessione vuol dire che hanno una miniera ma per avere una concessione di una miniera il governo tazeniano mi sembra chieda 5 milioni di investimento dove ce li ha questa azienda qui italiana 5 milioni di investimento qua non la conosce nessuno non è sicuramente presente quello che probabilmente hanno confermato dalla mia visita nell'ufficio loro in Samora dove sono tutti coloro che fanno business di oro hanno una licenza di compravendita ma è cosa ben diversa da una concessione quindi come vedete si presentano già in maniera truffaldina primo punto siccome ho un amico che mi ha contattato e che sfortunatamente non facciamo noi sfortunatamente poi ha deciso di fare un contratto con loro senza nemmeno interpellarmi io per carità di Dio uno può comprare dove vuole con chi vuole a suo rischio pericolo mi sono permesso di fargli notare che non soltanto c'è questo problemino che vi ho detto adesso cioè che si presentano come se avessero una miniera e non hanno assolutamente nulla hanno probabilmente una licenza con una targa che se volete io personalmente perché non posso caricare tutti i documenti no non è non è serio però io sono andato ho preso la foto del suo ufficio ci sono andato tre volte l'ufficio è sempre chiuso c'è un numero telefonico che mi hanno dato sono riuscito a ottenere dal management il numero telefonico ho telefonato non ha risposto a nessuno riproverò più avanti il numero locale eh numero locale però l'ufficio è chiuso l'ufficio è chiuso poi c'è un altro problema che loro dicono che stoccano in una località che non è italiana è localizzato questo territorio in Italia ma non è italiano non vi voglio fare nomi magari lo intuite ma il fatto che stocchi in una località che non è italiana non esime questa azienda ad avere la licenza conto terzi di cui vi ho parlato tante volte è automatico che un'azienda ce l'abbia in Svizzera rilasciati dai governi lo rilasciano automaticamente perché la Svizzera è l'azienda dove stoccano tutti sarebbe bene no c'è una licenza governativa che viene rilasciata nel momento in cui loro organizzano per gestire l'oro degli altri come ce l'ha la Renault come si chiama la Resonor che è l'azienda presso la quale stoccano l'oro la Elior stocca in Svizzera no a Lugano presso solito discorso o per lo meno ce l'avranno anche chiedetela io non sono riuscito a trovare a vedere una licenza di un'azienda italiana che stocca oro però se le aziende io non voglio fare critica a nessuno o parlare male di nessuno ma se ce l'avete mandatemele io sarò il primo a dirvi pubblicamente che avete la licenza e quindi siete autorizzati non solo a vendere ma anche a stoccare oro per me è un piacere scoprire che c'è qualcuno che segue la legge ho scoperto che questa licenza probabilmente viene lasciata dall'acquistura di zona ci sto ancora lavorando piate pazienza anche per me è difficile tante volte raccogliere queste informazioni quando poi vi dico una cosa devo essere assolutamente certo di quello che vi dico ora io dalla domanda più o meno semplice di Patrick sono poi arrivato a dirvi anche questa cosa qui perché purtroppo aziende serie serie coi crismi in Italia non ci sono e io cerco come operatore di marketing di avvantaggiarmi di creare un vantaggio competitivo basato sull'etica quindi tutti coloro che intratterranno anno in passato lo fanno in questo momento e lo fanno in futuro intratterranno rapporti come devono sapere che io voglio correttezza assoluta perché io sono il primo a mettere tutto nero su bianco se faccio un errore non c'è problemi lo riconosco e con me si deve intendere la buona fede ecco se uno non è in buona fede è inutile neanche che mi contatti va da un altro perché non lo voglia di perdere tempo anche perché un altro servizio che ho deciso di inserire è quello del tour sul sito di Ovest e io non posso portare gente della gente che non è seria che mi fa perdere tempo fargli vedere il sito per niente ora il sito il tour il tour è un servizio che posso offrire senza problemi a tutti coloro che sottoscrivono anche ieri sera ho fatto un lavoro con Massimo che è rimasto molto contento e va bene è una cosa abbastanza semplice a questo punto perché lo conosco però questo è un servizio che non veniva offerto prima tutti coloro che hanno una mezza intenzione di comprare oro anche se poi magari decidono di non fare niente non ha importanza si apre un conto si apre un conto presso a Ovest seguendo una procedura piuttosto semplice ci mettiamo lì davanti al computer vi presento presento come senza impegno come si dice insomma le caratteristiche dell'offerta poi magari nel frattempo li posso mandare anche qualche documento perché anche gestire e digerire il switch pilot ci vuole tempo anche per me ma ha preso due o tre mesi anche perché all'inizio tutte volte dico una cosa poi dico un'altra ho avuto anche motivi di discussione anche abbastanza accesa con Walter perché ho detto Walter e mi dovete dire le cose come sono perché siccome anche per loro era una cosa nuova hanno fatto un pochettino di fatica anche loro a capire le cose ma adesso piano piano ci stiamo arrivando ecco perché devono assolutamente rivedere il materiale marketing che hanno a disposizione in questo momento però purtroppo mi seguono e non mi seguono e quindi io cerco di fare il meglio poi piano piano picchia 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 si dovrebbe riuscire a correggere quelle piccole cose ma comunque importanti per arrivare a una situazione in cui il cliente è contento al cento per cento perché a quel punto è il cliente che ti raccomanda un altro cliente chiaro no? ecco allora Patrick in questi documenti io spiego tutto ora Auvesta cosa fa? Auvesta il switch pilot lo ripetiamo brevissimamente funziona in questa maniera e la razio cioè il rapporto tra il prezzo dell'oro e il prezzo dell'argento è per gli operatori del settore una cosa molto conosciuta io non a caso vi ho postato sulle foto della razio diciamo così di tutti i tempi di Auvesta presentato sul sito ma ho fatto lo screenshot della foto da quando sono partiti loro quindi nel gennaio del 2021 che hanno iniziato a testare tutto qui dimostra la serietà dell'azienda perché hanno testato tutto per 32-33 mesi prima di introdurlo poi l'hanno introdotto comunque circa sei mesi dopo dal punto di vista proprio pratico ecco quindi ci hanno lavorato non si può dire che l'hanno buttato là così e poi ha detto speriamo in bene no perché in questo caso sono tedeschi e hanno la testa da tedeschi non sono perfetti però almeno questo bisogna riconoscerlo l'approccio è stato assolutamente professionale questo rapporto varia come vedete c'ha delle oscillazioni ultimamente diciamo che 80 quando sono andata a Monaco a vedere la presentazione ci hanno detto a 80 conviene vendere oro comprare argento poi i parametri calano sappiamo già che un pochino più un pochino meno i parametri caleranno e allora a quel punto rivenderemo argento ricopreremo oro e a quel punto si creerà una extra grammatura allora negli ultimi due periodi nell'ultimo periodo si sono chiusi due cicli però sono due cicli sull'argento non sono due cicli sull'oro come questi amici avevano comprato argento quel periodo suggeriva l'argento allora purtroppo l'argento ha perso diciamo da 0,90 è andato a 0,85 anche un pochino meno e quindi in valore assoluto non hanno guadagnato però attenzione qui bisogna non bisogna ragionare solo sul valore assoluto bisogna ragionare sulla grammatura e la cosa positiva sono due casi soltanto però la cosa positiva è che c'è stata in entrambi i casi una grammatura importante di circa 5,3 5,335 in entrambi i casi se noi facciamo questa proiezione considerando i valori del momento dell'oro io ci ho studiato abbastanza bene credo che siano corretti uno avrebbe guadagnato intorno ai 1000 euro l'altro siccome è un valore superiore addirittura di più ecco quindi vuol dire che adesso adesso Patrick si è attivato un po' per tutti noi il primo switch sull'oro che io ce l'ho qui davanti a me posso anche dire eccole qua il primo switch si parte proprio da un amico che mi segue in questo momento non dico il nome per correttezza da 73,9 anzi si è attivato 83,9 e poi dopo ecco diciamo il range del switch sull'oro varia da variava da 86 infatti poi è andato ben oltre è andato da 89 a 83 83,84 quindi si sono attivati tutti io ce l'ho quasi tutti quindi davanti a me quindi adesso dobbiamo attendere con pazienza che questa razio cali e come se voi andate a vedere e vedete per benino la curva dei valori che vi ho postato io sembra che sia già in controtendenza perché se voi andate a vedere quello che ho chiamato razio di un anno come vedete c'è lì siamo dopo l'ho scritto 24 di luglio 24 siamo ormai ad agosto 10 come vedete è in controtendenza ecco se questa controtendenza continua come speriamo vuol dire che sta ritornando la razza sta calando ecco e io prevedo non lo so in base alle informazioni che ci ha data Ovest a suo tempo che in 6 9 mesi dovremo riuscire a chiudere il ciclo tutti noi un po' più un po' meno un po' prima un po' dopo dovrebbe ritornare intorno a questi 77 75 73 per chiudersi il ciclo ecco ora qual è il punto importante il punto importante è il seguente non dobbiamo avere fretta perché da quello che abbiamo capito più tempo passa più poi c'è grammatura si crea extra grammatura quindi dobbiamo stare proprio tranquilli perché un po' più un po' meno pasticci non ne abbiamo fatto perché tutto va tutto in automatico quindi le pasticci diciamo su farle manuale si poteva anche settare manuale ve lo ricordate ci sono stati un paio di amici che l'hanno fatto va bene vogliono fare sono pratici nel farlo non ho problemi però per quello che mi riguarda io posso prendere un minimo di responsabilità soltanto lavorando in automatico perché se poi ci pasticciano io voglio voglio rispondere naturalmente saluto anche Duilio Aurelio fa piacere che tu sia presente Cristina Enrica che finalmente ce l'ha fatta collegarsi e Gian Battista ecco quindi in conclusione bisogna stare tranquilli perché questo è un periodo che può variare dai 6 ai 9 mesi ma anche se ci volesse 9 mesi va bene lo stesso perché vuol dire che si cremerà un'ulteriore extra grammatura non so se Patrick ti ho dato tutte le risposte che volevi ascoltare se ne hai altre prego se hai altre domande grazie Max benissimo c'è nessuno che ha altre domande quindi tutti coloro che hanno argento siccome in questo momento non è conveniente perché l'argento è ancora debole cosa possiamo fare man mano che il trend aumenta vuol dire che aumenta il valore dell'argento o che sicuramente aumenta anche un po' il valore dell'argento ecco quindi a quel punto quando si vede che l'argento arriva grosso modo al valore che loro l'hanno comprato a suo tempo cioè che avevano comprato l'argento piuttosto che l'oro si converte attraverso il sistema si può convertire l'argento in oro praticamente a costi zero perché ho visto che a Ovesta trattare un minimo minimo e a quel punto si ripunta tutti sull'oro cioè che queste persone che hanno in questo momento argento ecco un po' di pazienza ci siamo dati appuntamento a fine mese vediamo come va ma anche se non dovesse succedere niente lasciamo tutto lì perché la grammatura è lì quindi man mano che andiamo avanti sicuramente se il trend cala scusate se la razza cala vuol dire che l'argento aumentano è logico perché sono inversamente proporzionali quindi tornerebbe tutto ecco un po' di pazienza e insomma stiamo andando sulla direzione giusta cioè si stanno per fortuna confermando le indicazioni che l'azienda ci aveva dato quando siamo andati a Monaco che pochi hanno capito la presentazione a Monaco cioè non avete capito quasi niente sinceramente poi dopo piano 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 è cosa che va digerita ecco anche magari per coloro che vogliono fare adesso una possibile un possibile acquisto sarebbe bene che ci cominciassero a lavorare io vi mando i documenti a disposizione se c'è necessità ci sentiamo così cominciate a digerire tutto ma il lavoro poi ve lo faccio io ve lo faccio io sono io e devo prendere responsabilità è inutile che ve la deleghe a voi vi cominci a dire parametri sceglite come tante volte ho sentito dire no le indicazioni devono partire da me poi dopo voi ovviamente fate quello che volete fare ma una volta settati i parametri i parametri sono questi perché poi si possono cambiare e vi dico anche un'altra cosa quando il switch pilot è in funzione cioè se attiva il primo ciclo non si può fare compravendita d'oro cioè potete comprare oro extra ci mettete dei soldi eccetera no? extra tipo piano di accumulo che anche a questo punto io non ricordo mai ma se i soldi si tengono in tasca poi alla fine si spendono no? sarebbe una buona cosa destinare almeno 100 200 quello che uno può e quasi automaticamente psicologicamente insomma digerire il fatto assimilare essere coscienti del fatto che il primo acquisto che dovremmo fare cioè la prima spesa dovrebbe essere l'investimento in oro in particolare in questo momento qua nel momento quindi in cui si apre dicevo il ciclo non si può vendere oro i soldi sono diciamo l'oro è bloccato lì è puntato sul C-C-Pilot nel momento in cui si richiuderà allora sì allora sì perché il ciclo si chiude e ritorna a zero uno può in quel momento se ha comprato dell'altro oro diciamo aggiungerlo poi viene aggiunto automaticamente ritorna tutto insieme l'oro poi ritorna tutto insieme quello vecchio diciamo così e quello nuovo va bene lo stesso cioè acquisti recenti si trova tutto insieme e allora a quel punto si risetta il ciclo dell'oro il valorizzatore considerando il trend del momento cioè facendo una valutazione sui trend futuri ma ripartendo praticamente da zero sono domande o commenti? è chiaro che quando questa cosa qui io ho mandato un messaggino stamani il mio interlocutore a questo e gli ho detto guarda se te mi dai pochissimo ti chiedo questo 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 e questo io il prossimo anno lavorando praticamente lo stesso faccio il doppio e se mi permetti di fare delle piccole correzioni sul alcune cosettine che non sono precise non sono chiare non sono chiare devono essere chiare i numeri devono essere più chiari possibili sono abbastanza certo che migliorando la proposizione di marketing nell'insieme a partire dal sito a Uvesta in due anni fa dal 15 al 20% in più e io vi faccio questa operazione senza soldi se volete mi date un bonus poi se ne parla più o meno vediamo quello che dice io provo io provo sempre la battagliare ricordate c'è un libro famoso in americano i librettini negli anni 80 li ho letti che dice marketing e guerra poi c'è un altro libro molto importante credo scritto vado a memoria scusate mi rossero ricordato degli autori scritto da un ex generale americano degli Stati Uniti allora dice marketing è guerra e guerra è saccheggio la guerra è un furto si chiama guerra in realtà si crea la guerra per andare e rubare beni che non sono nostri le guerre servono a questa che cosa credete che servono le guerre per portare la democrazia o la civiltà in giro per il mondo quindi si vive in un mondo come noi tutti voi che mi seguite sappiamo in alta volabilità e tensioni lo vediamo tutti quello che sta succedendo quindi bisogna assolutamente salvare e fare il possibile per salvare il patrimonio purtroppo ancora troppe poche persone mi chiamano anche così perché poi la consulenza è gratis quindi uno mi chiama e mi dice mi dici che dovrei fare io sul mio patrimonio in prossimo modo io lo dico non è che sia un'attività ma vedo che proprio mi interessa quasi niente a nessuno almeno soprattutto di coloro che mi conoscono un pochino meno sembrano non assolutamente preoccupati di quello che sta succedendo certamente vivono meglio di noi dobbiamo riconoscerlo no? domande? mi sembra a grosso modo l'intervento oggi vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire i documenti sono a disposizione metterò insieme ora devo vedere come lo chiamo questo documento etico non voglio fare il moralista perché non lo sono sto cercando soltanto di profittare di una lacuna nel mercato vista la completa quasi completa inconsistenza delle aziende italiane purtroppo non posso dire appunto a parte l'azienda metalli con la quale ci posso mettere la mano sul fuoco che lui ovviamente verrà a lucca e poi le altre purtroppo siete voi che non ve ne avete parlato bene molte di voi dicendo mi ho fatto un contratto con quell'azienda lì ho fatto per esempio quando un'azienda non vi chiede costi di deposito vi dovete subito la lampadina si dovrebbe subito accendere perché costi di deposito sull'oro ci devono essere così come ci deve essere un codice di assegnazione sul lingotto good delivery quando noi faremo per chi non l'ha ancora fatto vediamo un po' se c'è qualcuno che ha già fatto il tour con me Gian Battista l'ha fatto ieri ieri abbiamo fatto chi l'ha fatto anche Felice non mi ricordo ecco parla di tour per te ecco andiamo no Gian Battista siamo andati sul sito di Avest abbiamo visto tutti i vari codici no che noi abbiamo sui vari lingotti good delivery presso le Brinks o gli associati certo le altre aziende ce l'hanno questa cosa qui anche aziende importanti stoccano loro così no vi dicono che l'oro c'è la quantità c'è lì ma c'è davvero io dubito cioè c'è nel momento in cui loro lo chiedete di mandarvelo a casa allora sì se no l'oro non c'è è chiaro che queste aziende hanno un enorme leverage non si dice perché non hanno tutti i costi di gestione che a questa quindi si possono permettere di uscire magari con dei prezzi molto più competitivi ma poi l'oro c'è boh io non so io dubito io mi fido soltanto delle aziende che almeno forma per le quali tutto tutto torna perché in questo caso qui c'è c'è un codice poi l'abbiamo visto insieme mi sembra anche con Gian Battista dal sito si può scaricare tutti i depositi quel documento di cui vi ho parlato e che è disponibile anche quello se lo volete di tutti i depositi che la BRIN si gestisce con Auvesta che sono per Auvesta che sono equivalenti a più di 150 milioni di dollari quindi Auvesta scusate sta piovendo magari c'è un po' di confusione fatemi chiudere gli porti un attimo di pazienza ci voleva un bella acquazione perché è un po' che non pioveva dicevo quindi gestiscono un patrimonio enorme non c'è nessuna azienda ma nemmeno dividendo forse c'è la più grande azienda italiana può forse fatturare e gestire un quarto un quinto forse quindi dobbiamo capire in conchistia abbiamo a che fare quando si fa queste cose perché poi se no se vi affidate un'azienda italiana è una formichina rispetto a questa con tutte le conseguenze che questo comporta perché poi le aziende possono anche andare fuori business ricordatevi quello che vi dico io più del 50% delle aziende che operano in Italia nel momento in cui ci sarà il grande risetto andranno fuori business vuol dire che il 50% dei clienti che hanno investito oro con loro perderanno tutto io ve lo dico se non avviene il grande risetto per tutta una serie di ragioni non lo so cambiano il progetto non so quello che può capitare probabilmente no ma se dovesse capitare quello che hanno promesso loro che capiterà più del 50% andrà fuori business e poi perderete tutto sarà tutto confiscato dal governo non non perso perché l'oro sul valore rimane no una mano azienda non potrebbe mai fallire cioè garanzia l'oro sarà confiscato dal governo sarà la guerra una cosa e quell'altra tornando la maniera di fregarci un'altra volta come hanno sempre fatto in Italia altre domande max quindi stando a quello che dici tu la guerra ce la sta facendo lo Stato a noi sì noi siamo i veri nemici i cittadini l'ho detto diverse volte felice forse l'ho mai sentito la guerra è contro i popoli contro i cittadini siamo troppi lo sapevo lo sapevo però no troppi e purtroppo troppo pigri no troppo pigri non si studia più non si legge più non ci si documenta più e poi ci si ci si lamenta come mai le cose vanno male massimo posso fare una domanda prego Carlo ciao ciao ma ascolta solo un'ipotesi in caso di emergenza perché adesso il deposito in oro che aveva presso a Uvest con il Swiss Pilot si è convertito in argento ma io pensavo appunto che comunque in caso di emergenza potesse vendere l'argento invece ho capito male bisogna aspettare che si chiude il ciclo ritorno di oro per poterlo vendere e così corretto e quindi quel capitale lì fino alla chiusura del ciclo non è disponibile corretto vabbè speriamo in bene perché se il ciclo è breve termine vabbè ma se parli di 7-8 mesi un anno che poi in effetti non si sa quanto può durare è un po' è un po' insomma una Carlo Carlo scusa la statistica è una scienza ora magari non avranno insomma questo sistema è ancora relativamente nuovo però se ti leggi i documenti che hanno messo insieme si sono attivati tre cicli in 32 mesi dividi 3 per 8 24 3 per 9 26 quanto viene ho detto 3-6 mesi ci siamo in grosso modo siamo in quel periodo lì bella statistica poi speriamo che guarda sull'argento si è attivato in due mesi il ciclo di argento si è chiuso in due mesi quindi vorrebbe anche capitare con una tale turbolenza siccome l'argento è chiaramente sotto prezzo lo sanno un po' tutti gli operatori speriamo che questa controtendenza sia proprio all'inizio adesso continui io non mi meraviglierei se attivasse in due mesi con tutti questi cassini che ci sono perché l'oro ricordiamoci anche l'oro è un bene limitato e in natura c'è molto più argento che oro quindi nel momento in cui l'oro magari comincerà a scarseggiare oppure il prezzo andrà alle stelle e la gente comincerà a vestire l'argento è una cosa logica quindi dottor Max hai detto l'argento è sotto prezzo adesso e quanto sarebbe dovrebbe essere quello corretto mi fai una domanda probabilmente il prezzo il picco che ha raggiunto quanti mesi fa intorno grosso modo potrebbe ritornare a quel piccolo era arrivato mi sembra a un euro al grammo no? si ha sforato un attimino a uno 0.5 euro al grammo dovrei 0.85 potrebbe ritornare sicuramente a 0.90 potrebbe ritornare a quei livelli dovrebbe ritornare ma nella storia mi sembra di ricordare di aver sentito che c'è stato un momento in cui il prezzo dell'oro dell'argento erano in parità o ricordo male io allora guarda no in parità non sono mai stati in parità 1.15 1.15 è stato il minimo giusto Diego? l'ho scritto nel record allora guarda ti mando un link dove eccolo qua sto guardando prima c'ho qui davanti a me guarda da curioso come stavo studiando ragazzi 1.15 è un prezzo pazzesco sì quello lì era al tempo di di Napoleone mi sembra no è capitato capitato io guarda ce l'ho qui davanti a me proprio stavo a buion by post è un sito ti mando il link lo posto adesso sui canali lo faccio subito così almeno questo qui è quello dell'argento però vi potete selezionare ovviamente il periodo oggi un giorno una settimana eccetera poi in euro in pound e anche in dollari e poi vi potete selezionare il metallo che volete e la grammatura quindi qui praticamente è uno dei siti che migliori ve lo posto subito fatevi anche voi le vostre ricerche bisogna documentarsi sempre soprattutto per acquisti particolari come questo qui ecco postato se andate sul canale molti mi dicono che non ricevono le notifiche ma vi siete iscritti al canale se vi siete iscritti doveste ricevere tutte le notifiche io non so bene Telegram che pasticci faccia perché non capisco tutti dovrebbero ricevere notifiche ogni tanto mi dice come faccio a scrivere il canale mi dà mi dà canale privato che vuol dire canale privato non è assolutamente un canale privato quindi allora per coloro che non ce la fanno mi potete contattare e vi aggiungo io così almeno ricevete le notifiche io non sono lì uno lì che si sta a dire selezionate la campanellina mettete il like a me di queste puttanate qua scusate non friga niente però avrei piacere che tutti riceveste le notifiche perché sono già telegram fa una cosa abbastanza stramba che se voglio per dire mandarvi un messaggio a coloro che hanno sottoscritto praticamente non me lo fa fare perché c'è questi sistemi che hanno di sicurezza che dopo poco mi bloccano e non ma che senso ha se uno scusa se magari mi blocca è logico che mi bloccate voi ma cosa c'entra un sistema che ti blocca il canale non non riesco quindi è inutilizzabile dobbiamo riconoscerli comunque a telegram che ci dà la possibilità ancora di parlare che è già molto che vado quasi a ruota libera soprattutto su questo canale qui e quindi ecco va bene così in un certo senso però anche questi softwareisti vedete questi softwareisti sono dei softwareisti ma di marketing non capiscono una minchia perché uno dovrebbe fare una certa logica e predisporre il sistema per cui dice no se uno per caso riceve troppa comunicazione è il ricevente cioè voi uno di voi che si rompe le scatole e mi blocca va bene ma non che ci deve essere un sistema che mi blocca per quale ragione se uno sottoscrive e l'ha fatto volontariamente deve avere il diritto di ricevere tutte le notifiche che gli mandano perché se no che senso è un grosso limite ecco purtroppo questo è un esempio di come come tanti siti no tanti siti sono sviluppati dall'incaricato dell'azienda con il softwareista specializzato nel web va bene ma non sono dei persone di marketing soprattutto marketing management e quindi fanno dei siti che poi non vendono una caspita di niente e quindi noi siamo 15-20 anni indietro rispetto all'America ma è una cosa ridicola cioè siamo esattamente nelle stesse condizioni di quando io ho lasciato l'Italia nel 1999 credere o non credere da questo punto di vista in questo settore di marketing i progressi sono stati minimi risori è chiaro che poi paghiamo paghiamo un alto prezzo perché non si può vivere cioè bisogna stare un po' al passo con i tempi va bene altre cose altre domande se no chiudere qui abbiamo fatto un'ora va bene direi comunque il rapporto naturale oro è di 1,15 a livello di quantità disponibile più o meno 1,15 mi sembra mi sembra di ricordare che la quantità è scritto in qualche documento ve l'ho detto in qualche intervento guarda a memoria la quantità mi sembra che sia 20 volte superiore all'oro quindi grosso modo sì però naturalmente non viene estratta perché il prezzo è stato piuttosto basso capito e poi sapete che questi prezzi sono comunque decisi dalla cricca nella city londra non è che siano proprio capito cose decise e quindi evidentemente loro vogliano appuntano sempre per il discorso del valore spirituale lo sapete anche sull'oro perché l'oro è quello che compro le banche centrali per tante ragioni e l'argento rimane un pochino il calimero nero la seconda scelta però io sono abbastanza convinto che nel lungo periodo si apprezzerà moltissimo perché mentre l'oro è un bene un po' più limitato ce n'è tantissimo ce n'è tantissimo ora poi vi dico una cosa ve la dico perché molti non la sanno quindi allora a quel punto anche per un discorso di commodity se si dovesse ritornare a un gold standard l'ho detto tante volte è passato si ritornerà a un commodity standard in cui non soltanto ci sarà l'oro ci sarà anche l'argento ci saranno anche gli altri metalli ecco quindi automaticamente questi valori boom esploderanno di 10 volte vedi possono esplodere di 100 volte perché se dovessero veramente fare la scelta di tornare al gold standard e di emettere anche se valuta digitale ma collegata comunque all'oro diventiamo tutti miliardari avendo adesso 20-30 mila euro sul conto io lo dico magari non lo faranno magari non lo faranno però chi lo sa potrebbero anche farlo allora in un intervento fatto con Ubaldo Croce che troviamo trovate sul mio canale di youtube Massimo Michele Guerrieri se ve l'andate a cercare io ho parlato di una due parole Erika non è più con noi ma lei se lo ricorda perché mi aiutò lei con tedesco a tradurre l'intervento di un premio Nobel Otto Hans mi sembra che si chiami che lui tra le righe dichiarò in un intervento pubblico che tecnicamente era possibile utilizzando la pila di uranio nelle centrali nucleari da utilizzando vari metalli a seconda ovviamente ottenere altri metalli quindi tra le righe disse che era possibile ottenere oro dal piombo e questa è la pietra filosofale lo sapete i grandi iniziati Rosa Croce tutti sono stati per anni e anni e anni lì dietro a questa storia della creazione dell'oro mi sembra dal piombo e poi sono lì vicini nella tavola dei metalli poi non soltanto ci fu questa dichiarazione ci furono due articoli pubblicati se li volete ce li ho articoli pubblicati addirittura mi sembra su Lanz cioè magazine di primissima fascia che confermarono che sia ricercatori tedeschi sia ricercatori giapponesi con due studi indipendenti arrivarono alla creazione dell'oro utilizzando gli stessi principi mi sembra negli anni 20 negli anni 20 dal 15 20 poi ovviamente spari tutto non se ne parlo più conclusione probabilmente con grande possibilità oggi grazie allo sviluppo della tecnologia che c'è stata è possibilissimo che all'interno di centrali nucleari ovviamente segrete utilizzando particolari processi sia possibile ottenere anche oro creare anche oro credere o non credere non so se lo faranno ma tecnicamente mi sarebbe mi sembrerebbe molto strano in considerazione di tutto questo materiale che esiste se nessuno lo facesse quindi ci sarebbe questa non so se chiamarla opportunità o minaccia in un certo senso però ci potrebbe anche essere questa possibilità così come potrebbe anche essere stato deciso a livello politico che invece questa cosa qui sì è possibile farla però non si fa non si deve fare e allora se i grandi signori dell'alba decidano in tal senso questa cosa non la può fare nessuno è possibile che questo sia un processo molto costoso però no? e che non non sia come mentore di tizio no? no 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 da come ho letto io le cose se vuoi ti posso mandare i documenti sempre li trovi a Diego no 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 non è emersa questa cosa devi considerare che la tecnologia di oggi non è quella di allora cioè quello che allora poteva essere costoso oggi sicuramente hai bisogno della materia prima hai bisogno del piombo e quindi il piombo ha sicuramente un certo costo ma certo il costo del piombo come make up c'è e voglia se dal loro dal loro anche se ci investi qualche cosa dal piombo ci investi comunque tutto un processo che ha dei costi e ci ottieni l'oro vai a vedere il prezzo dell'oro sul mercato probabilmente è 500 volte non lo so 100 volte quello dell'argento quindi c'hai un grossimo margine capito? non credo che sia questo problema io propendo più per quell'ultima cosa che vi ho detto che sanno che questa cosa qui si può fare però hanno deciso che è bene non farla propendo più per questa cosa qua che sia stata una scelta politica altre domande o commenti altrimenti chiudiamo è inutile che vi ricordi gli appuntamenti perché gli appuntamenti non ce n'è più andiamo tutti in vacanza per fortuna non ci sono più appuntamenti lunedì riprenderanno dopo ve lo dico così tanto per parlare dunque l'appuntamento del lunedì abbiamo deciso con Flavio che riprenderà il 4 di settembre quindi ricominceremo a parlare del cristianesimo della creazione dell'invenzione del cristianesimo posso azzardare dire e con il culto di Roma che è una cosa abbastanza diversa niente a che fare con il cristianesimo vero diciamo così no scusate è il 2 perché è lunedì lunedì 2 e lunedì 4 riprenderemo con gli interventi su destinazione Tanzania sì no scusatemi sono a agosto vi scherò dunque 2 lunedì 2 di settembre sì va bene è lo stesso 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 mercoledì 4 e poi noi però 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 aspetta facciamo un passettino indietro perché noi su consulenza adesso chiudiamo oggi di qua sa diremo offrire un bonus per coloro che aprono una L12 di 150 euro parliamo sempre di cash e per quelli che aprono una XL24 di 250 euro allora per la L12 non potevo scrivere qui troppe cose perché diventava complicato allora per la L12 richiedo quello che viene considerato un investimento minimo cioè 12.000 con i primi 12.000 versati più il premio naturalmente si recuperano i primi 600 euro per la XL richiedo un investimento di 27.000 euro che uno può anche fare gradualmente uno occorre che lo faccia subito però diciamo impegno serio per cui comincia a recuperare i primi 1.200 euro per informazioni un pochino più dettagliate mi chiamate e vi spiego poi magari che non avete ben chiaro tutto il discorso del rimborso del bonus perché uno può anche aprire una taglia aprirla e utilizzarla come piano di accumulo no? abbiamo visto però deve anche considerare che c'è il bonus di Avesta il bonus di Avesta funziona in maniera tale che se ti investi una certa cifra recuperi tutto il bonus perché molte aziende questo non lo fanno non lo fanno non fa quasi nessuno lo fa Avesta poi mi sembra ci sia un'altra azienda che fa una cosa simile però non so bene i dettagli ecco quindi quando poi qualcuno mi dice ma Avesta è cara Avesta non è cara Avesta è un'azienda altamente competitiva se uno mi dice Avesta dovrebbe rivedere un po' il materiale marketing gli dico sì è vero ci sto lavorando speriamo che sia possibile rivedere tutto e fare di Avesta un'azienda d'eccellenza perché ha tutte le qualità tecniche e storiche di esperienza per farlo però sono ancora un pochino carenti nel marketing speriamo di riuscire tutti insieme a farli fare il salto di qua benissimo altre domande o commenti in chiusura bene allora possiamo chiudere qua e naturalmente auguro a tutti un'estate diciamo sicuramente tranquilla andiamo incontro a un periodo molto molto difficile non solo l'estate che poi purtroppo si continuerà almeno fino alla fine dell'anno anche dopo speriamo che insomma come sempre bisogna essere presenti positivi e produttivi sono le tre P quindi sempre cercare di fare cercare di di dire di dire di grazie a tutti